e lo facciamo anche adesso con le nostre due prossimi ospiti Benedicta e Brigitta Boccoli Voi eravate? Sì, ciao! Buon pomeriggio! Bentrovate, benvenute! Grazie Sanremo! Che overture, ragazzi! Stupende! Che poi noi qui abbiamo in studio Ileni e Nicole che sono due gemelle Però a voi vi davano delle gemelle, giusto? Sì, ancora adesso Ma secondo te ci assomigliamo? Beh, l'occhio Sì, è una vera I colori sono anche diversi Perché tu hai l'occhio castano E lei ha l'occhio blu Lei ha più seno, io meno seno Lei è più alta Infatti mi sono dovuta mettere i tacchi Se no entriamo siamo così Siamo diversissime Vabbè, mi dispiace l'idea di essere accomunate come gemelle? No, assolutamente Ma ci accomunano come gemelle Perché quando iniziamo Nel lontano 86 Buon compagni ci fece iniziare Come fossimo Per somigliare alle gemelle Kessler Quindi ballavamo insieme E ci hanno pubblicizzato come gemelle E quindi siamo rimaste così Vestito uguale, pettinato uguale Io il tacchetto un po' più alto Capito? Perché lei era più alta Quindi dovate parificare In realtà sei stata tua a iniziare Sono stata io a convincerla A fare Domenica Inn Perché lei aveva 14 anni E andava a scuola E mia madre ha detto Ma tu sei pazza Non puoi far Domenica Inn Brigitte E dico Ma io ho questa occasione Se mia sorella non fa Domenica Inn Io non ho l'occasione Perché l'idea è le sorelle Boccoli Quindi ho pregato Quindi l'hai costretta? L'ho costretta Sì sì E lei non ha fatto scuola per due anni Poi ha recuperato È una cosa terribile Tu sai sei anni più di lei Sì sì E la ve le valutiamo Domenica Inn Le sorelle Boccoli Le sorelle Boccoli Le sorelle Boccoli Sono tre volte Le sorelle Boccoli Sono quattro Ancora Più pubblicità di questa Alla prossima 1987, vi rivedete mai? No, mi fa una tenerezza, queste immagini mi fanno molta tenerezza perché mi ricordo le sensazioni che avevo. Quali erano? Beh, era una bambina buttata in uno studio televisivo con 10 milioni di telespettatori, non mi rendevo conto di cosa accadesse, facevo questa faccia spietata, molto sicura di me, ma in realtà ero proprio una cucciolotta in Genova, capito? Che aveva un giorno incontrato un compagno al supermercato, giusto? In realtà io feci un'audizione come ballerina di fila, eravamo 4 mila con i numeri, sono stata presa, dopo due giorni mi è arrivata una telefonata a casa e mia mamma mi fa, c'è Gianni Boccopagni al telefono? Dico, come c'è Gianni Boccopagni? Eh sì, insomma, pronto, ciao, sono Gianni, ho visto che abiti vicino a casa mia, ti va di venire a fare la spesa con me? Dico, in che senso? Eh, dobbiamo fare la spesa, compro un paio di sorgelati, perché lui era fissato sui sorgelati, no? Insomma, ci vediamo al supermercato, lui non proferisce parola, io con questo carrello così, lui riempie il carrello di sorgelati, finito, ha la cassa, mi fa, parli un buon italiano, ti prenderò. Giocava, e poi una volta la Dear, in studio, fa di me, devo fare un provino, eccetera, mi mette una telecamera davanti e gli squilla il telefono, anzi dice, stai lì con la telecamera accesa, vado a fare una telefonata, ma tu non ti muovere. Io sono stata, Serena, mezz'ora davanti a questa telecamera, non sapendo cosa fare, e lui ogni tanto passava già. Lasciandoti in una comprensibile agitazione anche. Esatto, quindi lui ha visto nei miei occhi l'imbarazzo, chissà che cosa, come si è divertito, e queste erano le cose che a lui piacevano e si divertiva, e le filmava, perché noi andavamo spesso in onda senza sapere cosa dovevamo fare. Quindi ha rilasciato, diciamo, la vostra improvvisazione spontaneita, forse anche per conservare questa freschezza, no, di ragazzine. Tra di voi ci sono sei anni, ma tu hai seguito le orme di tua sorella perché non potevi dirle di no, perché non sapevi dirle di no, perché è una sorella più piccola. No, perché è successo quello che è successo, è vero che sei accaduta così. Sì, mi sono divertita, però in realtà è come se questo mestiere mi avesse chiamata, perché già avevo fatto delle cose, avevo fatto già delle pubblicità, avevo già fatto due film, ma sempre tutto molto casuale è stato. Poi lei mi ha detto per forza, ti prego, fallo, 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 e lì poi abbiamo avuto una tale popolarità, domenica in, era il periodo in cui faceva 14 milioni di telespettatori, una cosa incredibile, che poi mi sono trovata dentro, mi sono assolutamente divertita, però non è nata da me. Che poi all'epoca per una ragazzina che volesse affermarsi c'era solo la televisione, no, oggi Nicole e Ilenia ci spiegano che invece loro, quanti solo eravete? Sì, ci sono i suoi, abbiamo 16 milioni su TikTok. Ma io devo parlare un po' con voi, dovete spiegarmi come si fa. Come si fa, è vero. 16 milioni, ma oggi contano di più i social della TV? È la TV, contano entrambi, esatto, entrambi secondo me. Certo i social ti dà più opportunità, ecco, al giorno d'oggi. È un linguaggio diverso. Sì, è un linguaggio diverso. Linguaggio vostro. Guarda come se ne studia Maurizio. Mi fai passire che parlano in sync. Ci finiamo le frasi. Esatto, tante volte sì. Non so, vuoi fare una domanda? Vuoi fare il terzo gemello, vieni qua. No, se volete farmi scuola di TikTok, ma non credo che sia in caso. Vabbè, loro parlano molto ai giovani, no? Perché no, noi siamo aperti, se vuoi ti prendiamo, facciamo un video. Cioè mi mettete lì di fianco e seduto, vabbè, non c'è. Poi in palo, poi in palo del TikTok. No, loro hanno questa peculiarità che fanno, cioè realizzano dei video su TikTok e poi appunto spiegano come li hanno realizzati. Siete mai stati e avete mai avuto rivalità l'una con l'altra? La domanda che vi avranno fatto milioni di volte, perdonatevi, ve la devo fare pure io. Posso rispondere io? Vai. Allora, io dico di no, nel senso che non abbiamo mai avuto una lite, non è mai successo niente di grave. Nel punto di vista professionale, da quello sentimentale o amiche. No, però io devo essere sincera, cioè se lei oggi andasse a fare un film in America e arriva agli Oscar con la statuetta, io rosico moltissimo. Vabbè, ma tu stai parlando dell'impossibile, per cui... No, ho capito, però io magari faccio il teatro intellettuale in un piccolo paese e tu con la statuetta io divento matta, questo sì, sarei molto invidiosa. E tu invece, Brigitta? No, io sono sempre molto felice dei suoi risultati, perché Beneditta se li merita proprio, molto più di me. Lei è una donna molto testarda, nel senso bello, cioè vuole raggiungere determinati obiettivi e certi successi con le sue forze, con la sua bravura e siccome lotta tanto, se lo merita molto. Una donna anche molto indipendente, so di qualcosa di carino, di altrettanto carino, per favore. Allora, mia sorella è molto bella, è la più bella di tutte, è sempre stata... Tu pensavi che fossi più bella di te da ragazzina? Sì, assolutamente sì. E ti dispiaceva un po'? No, devo essere sincera, no, perché non mi mancava niente a me, però lei aveva qualcosa di speciale, cioè lei è nata proprio con la camicia, lei era bella, aveva un talento da bambina, perché faceva, mi ricordo, le pubblicità da piccola e funzionava, le veniva tutto naturale. Io mi sono dovuta più costruire di lei, quindi per me lei era un bel punto di ferimento, poi era più piccola, era più sveglia di me, io ero più lenta. È interessante, quindi diciamo da una parte Brigitta guardava Benedicta come un modello, perché comunque si era, insomma, si era la prima che era più grande, eccetera, da un'altra tu pensavi di dover faticare di più rispetto a lei, ti sentivi meno fortunata, tra virgolette? Meno, sì, forse meno fortunata, forse fortunata è una parola non giustissima. Non avevo immediate occasioni, dovevo lottare per averle, lei aveva più facilità, perché insomma, l'impatto visivo è una cosa molto importante, il cinema si fa anche con la faccia, no? E quindi... Oltre che bella, dile qualche altra cosa di complimentoso. Oh, allora, lei è una bellezza, no? Anche chi se ne importa. No, lei è una donna particolarmente intelligente, è una donna di grande lucidità e anche questa cosa un po' gliela invidio. Poi dopo diciamo delle cattiverie, perché se no è troppo. È molto lucida, è molto pragmatica, e infatti sta facendo anche un lavoro che le permette di sviluppare questo suo carattere. Eh, perché poi sei venuta anche qui con tuo marito, che è il figlio della mitica Moira Orfei, indimenticata e indimenticabile. Però ora, prima di mandare la pubblicità, vi presento Ladies and Gentlemen, la mamma delle sorelle Boccoli. Cristina Casciani! No! Dov'è, mammina? Signora, buon pomeriggio! Ciao! Ma che bella signora! Buonasera, buonasera! Mammina! Ciao, bambine! Ciao, mammina! Ma sai che non è mai successo? Mia madre ha sempre detto no! Signora, noi la ringraziamo per aver fatto questa eccezione. E' indebolita invecchiando. E' indebolita qua. Che poi, ricostruendo, diciamo così, la saga familiare, tutto ha origine da mamma Cristina, perché c'è, anzi, dalla nonna, ungherese o di origine ungherese? La nonna era proprio ungherese. Ungherese. Ebbene sì! La nonna ungherese che ballava sui tavoli. E questa è tutta un'altra storia che vi raccontiamo dopo la pubblicità. Allora, signora Cristina, quanto è orgogliosa di queste sue figlie? Ma più che orgogliosa le amo tanto, per cui... C'è una preferita che non si può dire, però insomma, perché non esiste, per una mamma non è, poi non ha una domanda da farsi. No, per me proprio no. Ecco appunto, ma tendenzialmente ha un rapporto diverso. Io gli ho tre fra l'altro. Esatto, no, dico, ma con loro due ha un rapporto diverso o ha esattamente lo stesso rapporto? Cioè, se c'è una questione pratica da risolvere, chiama a Benedicta o chiama a Brigitta? Se ha una confidenza da fare, chiama a Benedicta o chiama a Brigitta? Ma sa, secondo le volte, a parte il fatto che ho sempre fatto da sola, adesso un po' mi appoggio. E' meraviglioso. E chi? E' meraviglioso. Però, secondo, chi ho più sotto mano, capito? Va bene, quindi siete fungibili. Chi me la racconta la storia della nonna Maria? Perché, diciamo, il sangue dello spettacolo scorre nelle vene di tutta la famiglia. Aspetta, aspetta il microfono. La madre ha fatto teatro, ballava tiptapa, eccetera. Mio padre ha fatto per diletto l'impresario teatrale. Io ho ballato per 15 anni, danza classica ho fatto. Non ho fatto niente, per l'amor di Dio. E mi è dispiaciuto non poterlo... Però, insomma, era nel sangue. E' come era nel sangue. Mi è dispiaciuto non potersi realizzare di più, immagino la famiglia, insomma, altri interessi si hanno prevalso, no? Mi è dispiaciuto nella vita di non potersi realizzare di più nello spettacolo, e in qualche modo le sue figlie hanno esaudito la sua vocazione? No, mi piaceva molto. Io adoravo il cinema, adoravo il teatro, vedevo loro ballare, dicevo guarda che bravo... Cioè, no, mi riempivano. Voi avete sentito la spinta materna anche? Beh, sicuramente mamma mi ha insegnato guardando i film, per esempio, mi diceva... Vedi questo film, questo film è importante, tu devi capire che cos'è... Tipo quale film? Non so, Carrie Dent, i musical americani... Ah, ma certo. Cioè, mi ha insegnato a avere un gusto anche nell'osservare un film, cioè capire qual è il film giusto e qual è il film sbagliato. Il senso dell'ironia, perché mamma non pratica l'ironia, ma ha un grande senso, lo capisce molto bene. Questo è un grande insegnamento, secondo me. E quando tornavate da Dominica Inc., che vi diceva? Ci riguardavamo tutta la puntata. Insieme alla mamma, di nuovo, con i VHS, scommetto. No, no, esatto. C'ho una fila così di VHS. E vi riguardavate la puntata, ma per così, per controllare, per gioire insieme? Per curiosità, per capire dove sbagliavamo, per divertimento, per commentare. E lei era severa? Mi hai sbagliato, dovevi fare questo, dovevi fare quest'altro. Ah, così? Sì, sì, hai la spalla destra un po' alta, devi abbassarla un pochino, tira un pochino il braccio. E voi vi rassicurava o vi dava un po' d'ansia, pure questo giudizio materno? Già c'era quello dei buon compagni, quello del pubblico e poi anche la mamma. Forse era quello più temuto o no? No, no, devo dire no, perché è sempre stata molto leggera mamma. No, io volevo sapere della nonna, perché so che ho visto anche una foto, che era una ballerina. Ballerina solista di Tip Tap degli anni 30. La bellezza di questa donna è una cosa incantevole. Stupenda, io ho passato delle giornate con lei divertendomi come una pazza. Mi ricordo passeggiate di Ibiza, quando Ibiza non era ancora famosa, Formentera. E noi passeggiavamo e andavamo a comprarci i vestiti insieme. C'erano queste donne che erano delle prostitute che stavano fuori da queste case. Sì, e erano vestite, non so, da gatto, ottocentesche. E lei era affascinata perché era tutto molto teatrale, le apparteneva questa immagine. Diceva, guarda che belle. Era una donna anziana, però parlava così di queste donne. Era zia Meim. Assomigliava alla nonna del tempo delle mele. Ho capito perfettamente, la zia Meim, quella che ti fa fare le cose folli. E peraltro ho letto che vi raccontava di questo provino che lei aveva fatto, in cui doveva mostrare le gambe, non doveva mostrare le gambe. Allora, proviene questo. Fai conto, lei è poverissima. Ungheria. Ungheria, poverissima. Non aveva una lira, vede, è letto su un giornale un annuncio per insegnare a ballare e andare in giro per l'Europa con questa compagnia teatrale. Lei non ballava. Prende la coperta di casa, si fa un taglierino. E mi diceva, sai, io ero tanto magra, avevo il buco in mezzo alle cosce, non ero tanto bella. Adesso voi siete secche, secche, noi eravamo un po' più formose. Va a fare questo provino ed erano 4.000 ragazze. E il provino era salire sul palcoscenico in quattro, alzare la gonna e far vedere le gambe. Fine. Non è cambiato tanto, eh, dagli anni 30 a oggi. Cioè, noi abbiamo tanto... Diciamo che oggi, diciamo, non sarebbe più tanto consentito. Meno male. Però, voglio dire, il concetto... E lei è salita sul palcoscenico e non l'hanno scelta. Ha detto, tu no. Lei è rimasta talmente male, perché poi era molto orgogliosa, è rimasta con la gonna alzata sul palcoscenico. Ma io no. Nel frattempo sono salite altre tre e l'hanno presa. Non si sono accorti che lei non era scesa. E lei ha girato... Quindi lì... La figna. E lei ha girato l'Europa per 4-5 anni. Aveva 16 anni, era una bimba. Mantenendo la famiglia e dando del lei sempre a tutta la compagnia. Non ha mai dato del tu. Che personaggio, davvero. Con gli occhi turchesi, blu. Bella. Qual è la cosa più importante che l'ha insegnato sua mamma, signora Cristina, e che lei ha trasmesso a Benedicta e a Brigitta? Era molto severa. Severissima. Con lei, Cristina, era severissima. E per cui io obbedivo, obbedivo. Benedicta dice di no. Con me non era severa. Ah, beh, con i voti, certo. Il ruolo di nonna è diverso da quello di madre. Poi la nonna è diverso. Senti, Brigitta, qual è il momento in cui hai sentito Benedicta più importante nella tua vita? C'è stato un momento che ricordi come particolare... Ma noi abbiamo passato, guarda, ti dico della verità, noi di base ci amiamo molto, ma abbiamo passato anche dei momenti di liti, no? Quindi ci siamo allontanate per un periodo e ne ho sofferto veramente tanto. Ma c'era un motivo per cui vi eravate allontanate? Sì, c'erano dei motivi che, inutile che adesso raccontiamo, sarebbero troppo lunghi. Naturalmente esistono gli scontri nelle famiglie, nelle sorellanze, nelle fratellanze. E quindi ci sono stati un paio d'anni in cui siamo state lontane e io ho sofferto veramente tanto. E quando invece questa cosa si è risolta, il nostro rapporto è migliorato ancora di più. Nonostante noi non ci frequentiamo, non ci vediamo, io ho due figli, per cui sai la vita è tanto diversa. Come l'avete fatta a risolvere? No, il tempo, diciamo che ha risolto perché ha creato del tempo per pensare e per capire, credo, no? Determinate cose. Per cui poi se c'è un amore di base, poi si supera. E' anche vero che ad un certo punto ne abbiamo anche parlato. Per fortuna non siamo persone che tengono i muri, perché i muri purtroppo creano muri sempre più grandi. E per cui siamo riusciti a superare questo momento e quindi quello è stato un momento importante per me. E per te, Benedicta? Beh, insomma, è stato un periodo tosto. Tosto perché lei ha sempre rappresentato, eravamo noi due contro il mondo un po' da ragazzine. Abbiamo avuto anche un'infanzia non facilissima, non stiamo qui a raccontare, però eravamo molto unite anche per questo, perché dovevamo risolvere insieme dei problemi. Quando c'è stato questo scontro, insomma, mi mancava un pezzo. Mi mancava proprio un pezzo. Quindi forse quello che ci possiamo dire al termine di questa conversazione è parlate e risolvete. Sì, è molto importante mettere sul piatto le cose, non tenerle dentro. Questo è fondamentale. Perché si discute, però si può arrivare a una soluzione. Allora, tre donne meravigliose. Io spero di rivedervi, perché ho l'impressione che abbiamo tante cose da raccontarci ancora. Grazie Cristina, grazie Benedicta, grazie Brigitta. Grazie a te, grazie a lei.